Sono al vaglio dei carabinieri di San Giovanni Valdarno le immagini delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aiutare gli inquirenti ad individuare i responsabili del furto a casa di Paolo Rossi il giorno dei suoi funerali. Innanzitutto sicuramente anche nella selezione dell'obiettivo hanno fatto una valutazione strategica entrando in azione nel momento in cui non c'era nessuno e hanno portato via il DVR dell'impianto di videosorveglianza chiaramente per metterci i posti tra le ruote. È una banda ben organizzata con ogni probabilità quella che ha colpito a casa di Paolo Rossi all'interno del relais Poggio Cennina di Bucine proprio durante le esecue del campione che si tenevano a Vicenza. I ladri due o forse tre hanno messo a suo quadro l'abitazione portandosi via un orologio Rolex del grande valore affettivo e alcune statuette sportive. Da una prima disamina mancherebbero appunto questo orologio alcune decine di euro e questi figurini sportivi insomma. Guarda noi stiamo sviluppando gli elementi che sono stati acquisiti in sede di sopralluogo. La squadra rilievi ha fatto un sopralluogo finalizzato a repertamenti di tipo dattiroscopico, fotografico e all'acquisizione dei filmati delle immagini dei circuiti di videosorveglianza sia delle abitazioni limitrofe che di altre strutture anche ricettizie e telecamere comunali. Stiamo cercando di mettere a sistema questi elementi qua. Un gesto commentato anche dalla moglie di Paolo Rossi, non voglio consentire a questi vigliacchi ha detto Federica Cappelletti di rovinare questo fiume di affetto e amore che si è formato intorno a Paolo. Bucine è stata e sarà la nostra casa, qui abbiamo trovato la nostra serenità fino alla fine. E il sindaco di Bucine intanto sta pensando ad intitolare lo stadio del paese proprio a Pablito. Lo stadio ovviamente perché comunque il calcio era il suo elemento naturale e poi lui comunque è stato presente tantissime volte lì allo stadio, a volte per eventi anche di beneficenza e molto spesso anche per la scuola calcio è andato a vedere giocare le squadre, a parlare con i bambini, con i ragazzi. Insomma, era un luogo che lui frequentava volentieri e mi sembra il luogo giusto per ricordarlo in un modo comunque sempre positivo e sempre diciamo di gioia e festoso. Ne ho già parlato con Federica che ovviamente è d'accordo e quindi procederemo verso questa scelta.